Passate da Instant Gaming e se volete avere il 5% di sconto su qualsiasi contenuto usate il codice XILOD e con milani mira tini milano no ma io ho il quickscope non riesci mai a fare il gizzi gdg al tempismo veramente eccezionale comunque quasi preso ho preso moto non muore l'ho preso in fronte che c'è una porta comunque non ho visto uno qua oh li li ma ho sparato e non era solo ho detto forse lo becco wow eh beh questo questo era dai questo era scontato oddio gli ho fresciato tanti ma non ho fresciato i corpi volano su questa matta eh coso mai preso mai preso no no che liscia clamoroso che liscia è la cosa più esilarante che abbia mai visto perchè mi dimentico perchè se abbiamo fatto una doppia storica vai giù di ignoranza giù di ignoranza e si scende e si mira in fondo eccolo no ma che liscia e che ma dammi un attimo se facevo una collatra e invece no eccolo uh la vedi questo la vedi scherzi si è fatti del colpo dell'andarte è pieno ma ho sparato ho sparato ho sparato no 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 spesso questo questo ma questo prende sbillato molto ti ho detto che è difficile ma è difficile vai che bello questo gioco mi sta piacendo di più ci giocherò tantissimo eccolo ce l'hai dritto liscio hai fatto il capello mamma 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 che schifo mamma se è tagliata provo di fare un kick finale no cioè questo se lui rimaneva fermo l'avevo preso un botto ti faccio vedere io la 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 lascia ai maestri vabbè io non sapevo come si comportava il cecchino però siamo stati siamo bravi non abbiamo ancora cristonato per ovvi motivi devo dire guarda proprio perchè il cecchino lo metto assai e si parte fabio pronti per la prima morte andiamo subito qua eccolo da dietro da dietro ma perchè se mi affaccio ce l'ho dietro io non la capisco sta cosa comunque qualche interruzione del video ci sta no ma infatti adesso entra mia nonna che è andata a bologna stamattina ma dettagli ma vedi che entra nico è tutto apposta come stai salve salve signora prego anche lei si faccia presentare nel video tanto lo stiamo regista ce l'hai sopra il culo senti ma hai rotto dai mori oh la c'è a destra sinistra dietro al culo dai scendi il cane c'è a sinistra vai a cagare eccolo stavo il cecchino bello vai a cagare è partito il copz certo beh si magari di una volta cagare cagare che ci ha abbandonato bello che sta a fare cagare bello cagare è andato in un altro clan ha scritto la tag di un altro clan bravo quella a me hitmarker hitmarker perchè quando sto in serie devo fare hitmarker hitmarker col cecchino è brutto perchè una volta mi esce la serie col cecchino una e faccio hitmarker hitmarker col cecchino è brutto bro bello non ho la sensibilità su dove mira questo cecchino non ce l'ho proprio poi ti ammazza lui con me come fa è in fondo al mondo eccolo double kill 98 è in fondo al mondo ma come fai eccolo no vabbè marker col clou dai si è un gioco è un gioco comunque double kill ha 24 tu ha 8 siamo lì insomma 3x8 è 24 3x8 è 24 6x8 a 4 mani vai vai sparami pezzo del merda sparami che ti tuppi la tua sorella ti torna ciò lo ha visto è sempre lui che ti ha ammazzato comunque il clamoroso cosa ho fatto è ancora double kill? no vabbè no io vestiti dov'è 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 no da qua non ci posso sapere 2 ore le hai detto double kill su double kill io credo il jessic perchè per la sua finiamo il video qua andiamo su k2 4 ciao